Posso chiederle solo una parere sulla crisi di governo? Cosa succederà adesso? Non ne ho idea. E' preoccupato? Un po' sì, perché non si sa mai che fine facciamo. Ultimamente con questi politici che loro lo stipendio non se lo riducono mai, riduciamo solo noi. Crisi di governo? Preoccupato? No, per niente. Non lo so, in Italia non cambia mai niente. Tutto come prima. Anche se c'è la crisi? Anche se c'è la crisi. Quindi governo o non governo non cambia niente secondo lei? Non cambia assolutamente niente. Noi siamo fatti così gli italiani. Assolutamente nulla, rimane sempre tutto invariato. Gli aspetti economici allora non vengono influenzati, lo spread sta salendo. Secondo me la situazione andrà avanti ancora per parecchio tempo e quindi lo spread rimarrà a questi livelli, sui 300-400 e si spera che in un domani qualcosa cambi a livello mondiale. E con un eventuale ritorno di Berlusconi potrebbe cambiare qualcosa o no? Dubito alla grande. Crisi di governo? Preoccupato? Ma siamo rovinati, siamo rovinati. Siamo tutti senza lavoro. Ma lei è preoccupato dalla crisi di governo? Certo che sono preoccupato. Era meglio se non ci fosse stata? Non ci fosse stata ma è impossibile, inevitabile non averla. Perché è inevitabile? Inevitabile. Chiunque va al governo secondo me ognuno avrà la sua. Come valuta questo eventuale ritorno di Berlusconi? Ma non la vedo molto bene. Molto preoccupata, molto. Deve arrivare gente giovane, basta. È ora proprio di finirla secondo me. Lei si augurerebbe che fosse terminata la legislatura col governo Mondi? Assolutamente sì. Come vede il ritorno di Berlusconi? No comment. Proprio no. No, per me no. Ormai no. Purtroppo non c'è nessuno che potrebbe andare bene. Questo è il problema. Per noi il problema generale è questo. Per tutti noi, per i commercianti, per chi ha le imprese piccole, per tutto. Siamo veramente stati tagliati fuori. Come ha lavorato secondo lei il governo Mondi? Ma ha fatto delle cose ottime per un certo punto di vista, diciamo, tecnico di emergenza. Ok, però non ha tenuto conto del rigetto di tutto ciò che ha creato un blocco all'economia folle. Preoccupata di questa crisi di governo? Abbastanza. Per ora prevedibile. Era meglio finirla la legislatura o no? Il discorso è questo. Secondo me Mondi è stato abbastanza bravo per quanto riguarda il discorso Italia, rientrare in pista, cercare di essere competitiva. Però dal punto di vista dell'economia è stato esattamente il contrario. Perché da una parte tiri sui conti, ma dall'altra è ovvio che gioco forza fossi l'economia. E un ritorno di Berlusconi come lo vede? Guardi, secondo me sul punto lui dovrebbe un attimino, secondo me, farsi un po' da parte.